L'interpellanza è la 4014, accesso agli atti relativi alle attività societari di Lombardia Informatica. Prego consigliere segretario Casalino. Grazie presidente, va bene, aspettiamo il rientro del sottosegretario Parolo. Comincio a esporre i fatti. A ottobre dello scorso anno io ho chiesto un po' di documentazione a Lombardia Informatica, documentazione riguardante una serie di incarichi ricevuti da Regione Lombardia negli anni precedenti, dal 2011 al 2013, incarichi anche per diverse decine di milioni di euro. Ho chiesto poi anche documentazione su diverse operazioni societarie svolte, effettuate da Lombardia Informatica dal 2008 al 2012, operazioni societarie anche molto complicate, una serie di spin-off piuttosto che fusioni societarie successive, operazioni non ben chiare anche nell'ambito delle competenze di Lombardia Informatica e che i più esperti sanno essere anche fonte di manovre sospette. Per quanto riguarda la prima parte di documentazione, sostanzialmente i vertici di Lombardia Informatica mi hanno preso in giro perché mi hanno richiesto un incontro, poi mi hanno detto in quella sede ho incontrato il Presidente, l'ex amministratore delegato Catanzaro e il direttore delle operations mi hanno detto sostanzialmente che mi avrebbero consegnato la documentazione, prima dicendomi che mi avrebbero mandato camion di carta. Ho detto benissimo, mi fa piacere sapere che la società di informatica di una delle quattro regioni motori d'Europa di cui spesso la giunta si fa avanto, senza andare poi a verificare cosa succede nelle province dell'impero, vuole usare dei camion di carta per mandarmi nella documentazione. Hanno detto di mandarmi, mi hanno promesso di mandarmi una documentazione a rate, chiedendomi come dire di non pressare la struttura per questo, significa che Lombardia Informatica non ha una gestione documentale seria e come si deve, di cui evidentemente non si può parlare tecnicamente in questa sede, insomma un atteggiamento, non so come definirlo, certamente non favorevole alla trasparenza di cui spesso il Presidente Maroni parla, ma di cui evidentemente non sa esattamente cosa succede nell'amministrazione regionale, potrei parlare di altri fatti ma non sono oggetto di questa interrogazione, piuttosto che nel sistema regionale, in cui peraltro ci sono la maggioranza dei dirigenti. Io ho ricevuto questa documentazione, ripeto a pezzi, non ho ricevuto peraltro la documentazione esatta che avevo richiesto, non posso entrare qui in tecnicismi, io ho lavorato nel settore per diversi anni, quella che ho ricevuto è documentazione non ufficiale, documentazione in bozza. Questo insomma in sintesi è quello che è successo, poi mi è arrivata l'ultima documentazione forse a seguito della calendarizzazione di questa interrogazione proprio ieri su un cd e ripeto comunque non è la documentazione di cui avevo richiesto, come dire, è documentazione che in qualche modo si riferisce agli incarichi ma non è una documentazione seria su cui fare un'analisi su come questi incarichi sono stati gestiti nel loro intero ciclo di vita, cioè da come sono nati, come sono stati commissionati a Lombardia Informatica, come sono stati gestiti e come sono stati rendicontati a Regione Lombardia. Io ho chiesto esattamente con dei termini tecnici molto precisi questa documentazione a Lombardia Informatica, non ho parlato con i commessi di Lombardia Informatica ma con il Presidente, il Direttore delle Operations e l'allora Amministratore Delegato oggi quanto pare allontanato. Quindi mi hanno preso in giro finora ma la cosa più grave che è l'oggetto di questa interrogazione è la documentazione sulle operazioni societarie, stiamo parlando di verbali di consigli di amministrazione, di atti notarili e quindi sostanzialmente di atti credo pubblici essendo una SPA e quindi richiedibili da qualunque cittadino. Mi sono arrivate queste documentazioni con praticamente per due terzi piene di omissis, gli omissis credo che possono essere gestiti, che ne so, nell'ambito di una documentazione su cui viene posto per esempio un segreto di Stato, gli omissis non possono essere a posti senza una valida giustificazione. Credo che sia un comportamento molto grave di cui quindi io chiedo una posizione, una spiegazione alla Giunta. Io mi aspetto che la valutazione adesso della Giunta sui vertici di Lombardia Informatica sia facilmente ricercabile in un capo ispiratorio, cioè l'uomo della famiglia russa che era stato messo ai vertici di Lombardia Informatica, il Dottor Catanzaro, che la Lega si può vantare col proprio uomo messo dalla Presidenza di aver allontanato, ma le cose non stanno così perché la documentazione che mi è arrivata piena di omissis mi è stata inviata non dal Dottor Catanzaro ma dal Presidente di Lombardia Informatica che ricordo in quota Lega si vanta pubblicamente di essere amico del Presidente Bobo Maroni, quindi io voglio capire adesso la Giunta che valutazione dà di questo comportamento dei vertici societari di Lombardia Informatica e quale iniziative intende assumere nel futuro per evitare questi comportamenti diciamo anche in altre società del sistema regionale. Grazie. Grazie consigliere Casalino, non risponderà il sottosegretario parola ma risponderà il Vice Presidente Mantovani che ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente. Una breve cronistoria, comunque permesso che è già stato ribadito anche in questo Consiglio che anche alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato il diritto di informazione e accesso dei consiglieri incontra qualche limite, quello della proporzionalità, della ragionevolezza delle richieste che non devono risolversi di fatto in un sindacato generalizzato e strumentale sull'operato degli organi esecutivi né determinare un aggravio notevole di lavoro a carico degli uffici. Si deve comunque constatare quanto segue. In data 20 gennaio l'ISPA ha inoltrato la documentazione cartacea relativa ad Agenda Digitale Lombarda. In data 30 gennaio 2014 l'ISPA chiede la priorità con cui deve rispondere relativamente ai singoli argomenti in evasi. Il 3 febbraio 2014 il Movimento 5 Stelle indicava la priorità con cui ricevere la documentazione e chiedeva all'ISPA la tempistica dell'inoltro delle risposte. Il 6 febbraio successivo rispondeva l'ISPA sempre rielencando in ordine di priorità gli argomenti in sospeso e specificava che la predisposizione della documentazione relativa e ciascun argomento avrebbe comportato dalle 2 alle 3 settimane lavorative. In data 7 marzo 2014 veniva consegnata a mano una busta contenente chiavetta USB con caricata la documentazione relativa a anagrafe sanitaria, project management ambito salute, fascicolo sanitario elettronico, e-prescription, gestione carte cittadino e GA, assistenza di primo livello. Sempre in data 7 di marzo, a seguito della richiesta di avere la documentazione relativa ad alcuni argomenti trattati in consiglio di gestione senza omissis, attività societaria dal 2008 al 2012, sono stati inoltrati al Movimento 5 Stelle tramite due invi composte elettronica certificata, in quanto gli allegati per un'unica mail erano di dimensioni superiori al massimo consentito dalla PEC, gli estratti richiesti senza omissis. Nella lettera di accompagnamento si spiegavano le motivazioni degli omissis, che riguardavano parte dei verbali e delle delibere del CDG, non riferite all'oggetto delle specifiche richieste. Risulta in consegna in questi giorni la documentazione relativa alla pratica Service Provider. Ad oggi, presso gli uffici dell'ISPA, risulta ancora in preparazione la documentazione relativa ai seguenti argomenti, elencati secondo l'ordine di priorità che è stato concordato col center, sistema portale RL, regione Bombardia, sistema GEFO, SIOP giunta regionale, gestione e sistema documentale. Pare quindi, di tutta evidenza, l'atteggiamento di piena legittimità e correttezza, nonché oltremodo collaborativo, della società regionale, che anzi ha impiegato le proprie strutture, anche oltre il dovuto per acconsentire le numerose e ingenti richieste che sono pervenute. Pur confermando pertanto la disponibilità delle strutture regionali ad esaudire le legittime istanze dei consiglieri volte a conoscere le attività svolte, si ribadisce la necessità di contenere, per quanto possibile, tali richieste nei limiti all'inizio sopra richiamati, affinché non si risolvano in gravi pregiudizi, all'ordinaria funzionalità dell'amministrazione regionale. Insomma, richieste sicuramente, diritto di averne informazione, dovere da parte degli enti di doverle fornire, però capita che di fronte alle consistenti richieste, a volte forse che vanno oltremisura rispetto alle disponibilità degli enti di dover proporre le adeguate risposte risultano in qualche modo, cioè possono creare anche qualche difficoltà di cui naturalmente ci si scusa. La ringrazio Vice Presidente Mantovani per la replica. Consigliere Casalino, tre minuti. Direi che tutti i fatti esposti del Vice Presidente Mantovani ovviamente mi erano molto noti, ma l'interrogazione conserva la sua validità. Perché? Perché io chiedo, ho chiesto quali iniziative si ritene opportuno avviare affinché questi fatti non abbiano a ripetersi, perché mi sono stati inviati una mole notevole di documenti pieni di omissi, quindi inservibili. Io ho fatto un ricorso al difensore regionale che ha intimato a Lombardia Informatica di inviare questa documentazione. Mi è stato inviato via PEC una parte della documentazione piena di omissi, quindi non è vero che mi è stato inviato tutto. Evidentemente dovrò rendere pubblica tutta questa corrispondenza intercorsa fra me e Lombardia Informatica. È evidente che io sono stato disponibile a non oberare di lavoro, di risposta alla mia richiesta di sagliati in Lombardia Informatica. L'hanno fatto c'anno prima, io ho chiesto la documentazione a metà ottobre, sono passati 5 mesi e mezzo, credo di non aver stressato nessuno. Ho anche suggerito a Lombardia Informatica che forse era più consono presentarsi all'esterno con una documentazione non su carta, cosa che poi hanno fatto. Quindi io quello che voglio fare qui è dare un aiuto alla Giunta nel far capire che un conto sono i messaggi in propaganda elettorale, la trasparenza piuttosto che le regioni, la Lombardia, una delle quattro regioni motori d'Europa, quando poi di fronte a questi fatti la realtà è molto più, come dire, miserevole. Perché una società che mi risponde in questa maniera dicendomi prima che mi manda il camion di carta, piuttosto che mi manda, e io questo lo dimostrerò in pubblico, della documentazione ridicola che non fa capire per quanto riguarda gli incarichi ricevuti da Regione Lombardia come sono stati gestiti. Io sono odito dei sistemi informativi certificato, quindi so di che cosa parlo, 23 anni di esperienza. Io questa cosa la dimostrerò. Evidentemente chi le ha scritto questa risposta, il vicepresidente Mantovani, so che probabilmente lei, io ho incontrato prima l'assessore Garavaglia che è il presidente del consiglio di sorveglianza di Lombardia Informatica, insomma io gli ho accennato al problema, lui sostanzialmente scaricava la colpa, ripeto, sul dottor Catanzaro. Io ritengo sia un problema, come dire, più organico di cui evidentemente la Giunta o non si rende conto, fa finta di non si rende conto, quindi io sollevo questo problema più come spirito di servizio nei confronti della Giunta, forse è il caso di capire meglio come gestire una serie di tematiche, di problematiche all'interno del sistema regionale. Quindi le priorità, io l'ultimo accenno che faccio nel tempo che rimane sulle priorità, io faccio anche presente che ho scritto delle PEC a Lombardia Informatica, il presidente mi risponde come se avesse perso queste PEC, che lo ricordo sono posta elettronica certificata, quindi le raccomandate con ricevute di ritorno, il presidente di Lombardia Informatica mi risponde come se non le avesse ricevute chiedendomi nuovamente che cosa gli avevo chiesto e che cosa mi aveva consegnato. Quindi, insomma, io non mi ritengo soddisfatto della risposta. Grazie.